Buongiorno a tutti, oggi siamo a casa di Alfredo Petruzzelli, buongiorno Alfredo, per farci raccontare la sua esperienza come musicalizador, lui ci tiene tanto a utilizzare questa parola e non DJ del tango, giusto? Sicuramente. Allora siamo a casa sua, in realtà si ha un po' l'impressione di entrare in un tempio, noi diciamo il tempio torinese del tango, casa sua, ogni parete tempestata di qualche cimelo. Allora inizierei con la tua presentazione, un po' in generale le tue origini, la tua età, il tuo nome? L'età è tanta, ho 66 anni, sono nato nel 51, sono nato in Meridione, sono pugliese, nato a Cerignola e vivo però a Torino dal 58, quindi ormai è una vita che abito in questa città e mi sento torinese a tutti gli effetti. Sono in pensione, ho lavorato per 40 e fischi anni, nel 2012 sono andato in pensione e adesso sono felicemente pensionato e basta. Allora appunto, questa intervista ha lo scopo di raccontare come nasce la tua storia di musicalizador, partiamo quindi dal principio, come ti avvicini al tango e quando? L'inizio è stato a metà degli anni 80, a metà degli anni 80 ho cominciato a interessarmi di questa musica di cui sapevo assolutamente nulla, ho cominciato a comprare i primi due dischi di tango, erano due vinili ovviamente, era uno di Piazzolla e uno di uomo Semosalini, ma non pensavo ancora al ballo in quegli anni. Qualche anno dopo, alla fine dell'89, a seguito di una storia amorosa, chiusasi anche abbastanza malamente, ero entrato un po' in crisi, leggo sulla stampa verso la fine di novembre che si stava organizzando un corso di tango e decisi di scrivermi. Questo corso si tenne poi nel gennaio del 90, esattamente il 15 gennaio e da lì è cominciata la mia storia con il tango. Io ho fatto questo corso, dopo aver fatto questo corso, insieme agli altri partecipanti a questo corso ci siamo domandati adesso che cosa ne facciamo di questo corso che abbiamo fatto e abbiamo deciso di continuare a trovarci per fare sostanzialmente pratica e quasi subito abbiamo affittato degli spazi in una palestra dove ci trovavamo tutti i giovedì sera per praticare. Poi a marzo del 90 abbiamo costituito la prima associazione di tango argentino che si chiamava il Bari Tanghero e da lì è cominciata tutta la mia storia con il tango che dura ancora oggi. A questo punto parlaci dei tuoi viaggi a Buenos Aires, qualche aneddoto di quei tempi, qualcosa che ti ricordi? A Buenos Aires ci sono andato per quattro volte e ci sono andato tutte e quattro le volte per lavoro, che culo direte, che fortuna si dice, e ci sono andato perché il mio capo dall'epoca aveva dei rapporti con una persona a cui aveva casualmente prestato del denaro che lavoro facevi? Io lavoravo in una commissionare di borsa, in una finanziaria che poi successivamente si trasformò in banca per cui divenne dirigente di banca in un secondo tempo. Però in quegli anni dal 91 mi è capito di andare in Argentina per andare a tentare di mettere un'ipoteca su un immobile, un'estanza, una proprietà veramente e ci andai quindi per lavoro. Il mio avvicinamento al tango era cominciato un anno e mezzo prima per cui era unire l'utile al direttevole ed è stato veramente la mia fortuna. Però non fu così semplice andarci. Appena arrivato a Buenos Aires naturalmente presi i contatti con quelli professionali che avrei dovuto prendere, ma dopo mi dedicai ovviamente a cercare il tango. E a Buenos Aires il tango non si trovava così facilmente come a differenza di quanto si potrebbe pensare. In quegli anni non era così semplice. Il tango nell'aria c'era, si sentiva comunque come musica di sottofondo della città, era presente dappertutto, ma quando chiedevi a qualcuno, ai tassisti in particolare che prendevi ad ogni angolo di strada, quando gli chiedevi dove si balla il tango, di andare in qualche posto dove si balla il tango, questi ti portavano ai posti per turisti. Per cui non ti portavano dove? Nelle milonghe. Per incontrare una milonga c'è voluto l'incontro con Miguel Angel Zotto. Il terzo giorno che ero a Buenos Aires, era il 28 di luglio, sono andato al Teatro San Martino a vedere tango per dos che Miguel Angel Zotto e Milena Plebs con la loro compagnia stavano rappresentando. Mi decisi di aspettarli fino alla fine della rappresentazione, mi attesi al di fuori del locale, avevo comprato il manifesto dello spettacolo, me lo sono fatto autografare e poi ho chiesto dove si può vedere una milonga, dove si può vedere quelli che ballano il tango e non quelli che ballano il tango per i turisti. Allora lì insieme a loro faceva parte della compagnia Ghigermina Chiroga e Ghigermina mi accompagnò in un posto che era al primo piano di un palazzo, io credo che fosse il Regine che oggi si chiama il Beso e così finalmente riusci a vedere una milonga. Le volte successive, quindi io andavo la prima volta nel 91, poi nel 94, 95 e 96 sempre per lavoro, però la volta successiva ebbe invece la fortuna di avere una guida in Buenos Aires. La guida era una guida eccezionale che era Pedro Monteleone, Pedro Monteleone era tornato a Buenos Aires dopo essere stato in Italia a Torino nel 92 per circa sei mesi, eravamo diventati amici, avevo frequentato le sue lezioni, i suoi corsi, vado a Buenos Aires naturalmente telefono a Pedro e Pedro mi fa fare tutte e tre le volte per 15-20 giorni, mi porta in giro per Buenos Aires ogni sera una milonga diversa, per cui ho avuto la fortuna di vedere l'Almagro, il Grisel, il Sigrumbo, la Carense, il Canning, lo Juvenil, il Sunderland, ogni sera, tutte milonga storiche, molte di queste non ci sono più, la Carense non c'è più, così come non c'è più, se non ricordo male, lo Juvenil, mi sembra che non esista più, sono cambiate molte queste milonghe, però con Pedro e andare con Pedro era come andare con un personaggio all'interno di queste milonghe, perché lui era comunque uno dei milongheri più famosi di Buenos Aires e quindi era tutte le volte ricevuti, come dire, con tutti gli onori se si vuole. Una delle cose più belle che ricordo fu quando nel 95, settembre del 95, Alcin Rumbo, che per me era la più bella di tutte, come milonga, la più tradizionale, Alcin Rumbo mi fui omaggiato di una specie di diploma che è esattamente questo, un diploma che mi hanno dato come rappresentante del tango in Italia ed era questo qui, insomma, non so se si può vedere, ma insomma… Rappresentante del tango in Italia. Come rappresentante del tango in Italia, quindi mi hanno, come dire, gratificato con questo odore, firmato da Lampasso e da Tanguito Oliveto, che sono due famosi milongheri dell'epoca. L'ultima volta a Buenos Aires sono stato nel 1996, dopodiché ho smesso di andarci e mi dicono che oggi è completamente cambiata la città. Però insomma, questo è tutto. A questo punto quando decidi di diventare musicalizzador? Non c'è stata una decisione, un momento in cui si è presa questa decisione, si è fatto più di necessità virtù. Siccome noi avevamo affittato questa sala, noi come gruppo che praticava il tango argentino, avevamo affittato questa sala in Corso Vittorio e io comunque mi occupavo e mi appassionavo di musica da molto prima che arrivasse il tango argentino, avevo uno di quei music box con le casse staccabili con dentro il lettore di CD, il lettore di cassette, la radio e tu. Per cui avevo cominciato a portare quello. Per di più avevo cominciato a collezionare dischi e cassette di tango, per cui è diventato quasi naturale per me portare il mio strumento musicale insieme alla musica che avevo. E senza accorgermi ho cominciato a passare la musica e a diventare di fatto il musicalizzador senza saperlo. Musicalizzador è una parola grossa, in quegli anni assolutamente no. Ero quello che mi metteva la musica sostanzialmente, però metti la musica oggi, metti la musica domani, poco alla volta come dire si impara qualcosa in più, poi si comincia anche a perfezionare il modo di mettere la musica naturalmente e così negli anni un po' più avanti sono diventato un musicalizzatore. Con tutto il materiale che ti portavi da Buenos Aires. Sì, il materiale all'inizio non si trovava assolutamente nulla, non c'era assolutamente nulla, nel senso che in Italia di materiali di tango argentino c'era credo un disco di Gardel edito dalla Fonit Cetera che era della Rai all'epoca e c'era pochissimo altro che era prevalentemente di Piazzolla. Quindi siamo veramente ai due estremi del tango ballabile e quindi assolutamente non ballabile. Ma noi ballavamo lo stesso quella roba lì. Io ho cominciato a raccogliere questi dischi, questi cd, queste cassette e comunque noi ballavamo su quella musica. Poco alla volta sono cominciati ad essere pubblicati altri cd, c'è stata la collana e il bandoneon che ha cominciato nell'89, però io non sapevo l'esistenza di questa collana, ho cominciato a comprare questi dischi a metà del 1990, però come era molto tradizionale quella collana e quella musica ci piaceva relativamente poco, l'abbiamo usata anche abbastanza poco. Ci è voluto l'arrivo di un vero insegnante di tango, perché la prima che ci ha fatto il corso in realtà non insegnava proprio tango, ma era una specie di teatro danza, qualcosa di diverso, però insomma ci è servito per cominciare a avvicinarsi al tango. Ci ha fatto innamorare del tango, sicuramente ci ha fatto conoscere la musica alla Lola di Mischi, ma il salto di qualità con il ballo, con il tango ballato, con un insegnante vero, si è stato a novembre del 1991 con l'arrivo di Alejandro Achino e Maria Chiara Micheli, che furono i miei primi veri insegnanti di tango argentino e lì veramente è cambiata la storia. Certo. A questo punto ci piacerebbe sapere che ricordi hai della tua prima vera serata da musicalizzatore ufficiale, diciamo così, no? Beh, la prima vera serata sono quelle che sono tenute al Caffè Pro Cop, in realtà il Caffè Pro Cop come nel 90 avevamo fondato il bario Tanghero, nel 94 divenne il presidente del bario Tanghero e continuavamo a cercare un locale dove andare a praticare questa nostra passione, che era anche un po' molesta nei confronti di quelli che non ce l'avevano la passione. Certo. Eravamo invadenti, rompi palle, c'è, 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 insomma, però a noi piaceva così. È tenuto duro. Cercavamo di andare in tutti i locali, tutti quanti si entusiasmavano l'idea, i gestori dei locali, sentendo che eravamo 200 soci, pensavano che fossero 200 bevitori di birra come minimo, di alcol in generale. Quando poi capivano che bevevamo al massimo acqua e per di più ce la portavamo da casa molto spesso e quindi ci cacciavano amorevolmente fuori facendoci capire che non andava bene. Nel 94 finalmente incontriamo incontro il Caffè Pro Cop e incontro uno che non mi chiede assolutamente nulla sul consumo, era Sergio Martin che era il gestore del Caffè Pro Cop e del Teatro Juvarra. Aveva appena aperto queste due sale contemporaneamente, sostanzialmente aveva delle serate vuote. Quando gli ho detto chi eravamo e cosa facevamo, mi ha detto ma si vieni non c'è problema e mi ha dato il venerdì sera da utilizzare. All'inizio l'abbiamo utilizzato ogni 15 giorni, poi abbiamo cominciato da settembre del 94 tutti i venerdì e lì è cominciata la mia vera serata da quello che mette la musica in un posto dove si balla il tango e quelle sono state le mie prime serate da musicalizzatore. Continua ad essere un termine esagerato, però erano le prime serate in cui io ufficialmente passavo all'interno di una sala dedicata al ballo, passavo della musica per ballare il tango. E quindi confermiamo il fatto che fossi tu il primo a Torino, in Italia a questo punto. Fu il primo non solo a Torino ma addirittura in Italia, anche se è un primato di cui sono molto orgoglioso, ma non c'è praticamente nessun merito. Il merito vero è stato quello di essersi appassionato a quella musica e di aver contribuito a diffonderla in giro per l'Italia. Gli inizi sono stati sicuramente faticosi, non così trionfali, oggi è tutta un'altra storia, ma in quegli anni eravamo veramente quattro gatti, ma quattro di numero voglio dire, certe sere ci trovavamo davvero in quattro e c'erano due coppie che ballavano a fine della trasmissione. All'inizio è stato veramente qualcosa di molto spontaneo e molto volenteroso. Poi il salto di qualità si è verificato più avanti, quando poco alla volta si è sparsa la voce che ci fosse a Torino un posto dove si ballava il tango, dove c'era una serata dedicata al tango ed era l'unico in Italia in cui si ballava il tango regolarmente, per cui era diventata la prima e l'unica milonga di Italia. E arrivava tutti i venerdì sera, arrivava gente da Genova, da Milano, da Firenze, da Bologna, addirittura da Roma, arrivavano. Tutti i tangheri e gli appassionati di tango decidevano di venire al Pro Cop, almeno una volta o due durante la stagione, quasi in pellegrinaggio. Oggi si chiamerebbe Festival, no? Sì, dal Pro Cop passavano tutti quelli che si occupavano di tango argentino, che erano, voleva dire musicisti, ballerini, gente che aveva scritto libri, tutti quelli che passavano in Italia per qualche motivo venivano al Caffè Pro Cop, di loro iniziativa, perché si era sparsa la voce non solo in Italia, ma anche a Buenos Aires, che in Italia il posto dove si poteva praticare e parlare di tango era il Caffè Pro Cop. Bene, quindi hai già risposto alla prossima domanda che ti avrei fatto, insomma qual era il rapporto in quegli anni nel ballo, nelle milonghe, anche musicalmente, che cosa, con quali strumenti poi passavi la musica? Ma gli strumenti sono innanzitutto, all'inizio CD e cassette, dopo esclusivamente i CD, i CD ho cominciato a collezionare all'inizio del 90, oggi credo di avere una delle più grosse collezioni di CD di Italia, sono quasi 2000 i CD di tango, poi ci sono i CD dell'altra musica che saranno altri 6-700, ma questo è un po' una bulimia, come la chiamo io, del tango, che è una bulimia non solo del tango, ma anche proprio fisicamente degli strumenti, dei supporti che avevo, per cui ho raccolto un po' dappertutto questi CD, ma in Italia sicuramente ne ho comprati pochissimi, perché non si trovavano in Italia e si continuavano a non trovare nel 94, 95, 96 e invece essendo stato a Buenos Aires sapevo dove comprarli e c'era un negozio famoso che oggi si chiama Tango Store, all'epoca si chiamava Zivalz, dove ho cominciato a comprare mandando degli ordini via fax, per cui ogni volta mi arrivavano 30-40 compact disc tutti insieme e io facevo l'importazione di questi dischi, addirittura per un certo periodo l'ho importati per davvero con lo scopo di venderli e di diffondere i dischi di tango, ho ancora qui il contenitore che avevo all'epoca, che è quel contenitore lì, in cui dentro c'era un'esposizione ed era quel contenitore situato all'interno del caffè Pro Cop in cui la gente poteva comprarsi i dischi ed è stato un modo per diffondere la musica del tango in Italia tra gli appassionati, perché non c'era altro modo. Certo. Hai avuto un maestro o un riferimento per questa passione? Per fare il musicalizzatore in realtà in quegli anni non sapevo neanche che esistessero come dire dei altri musicalizzatori, io non li conoscevo, non era conoscenza, quando sono stato a Buenos Aires insieme a Pedro ero con gli occhi sgranati a guardare quello che capitava in pista e sicuramente non prestavo tanto orecchio alla struttura della serata, alla struttura delle tande. Devo dire che ho fatto sì che io sia cresciuto come un'autodidatta, di fatto come musicalizzatore ho fatto molte cose da solo. Da un certo punto in avanti però è arrivato in Italia il più grande, è arrivato a Felix Picerno. Felix Picerno è arrivato in Italia nel 99, dicembre del 99, l'aveva invitato una ragazza di Milano insieme a un collega qui di Torino, insieme a Beppe Scozzari qui a Torino e l'avevo invitato al Caffè Procoppa a mettere musica per il 31 dicembre per il Capodanno del 2000 e lui era venuto e per la prima volta ha messo musica in Italia ed è stato il mio primo incontro con un musicalizzatore e con il più grande musicalizzatore che c'è stato e di lì ho cominciato ad ascoltare il suo modo di fare musica e a ispirarmi in qualche modo in maniera un pochettino più formale, un pochettino più rigida a quelle che erano le sue sequenze. C'è da dire che io non usavo all'epoca le cortine prima che arrivasse il Picerno, nel senso che mi avevano detto che c'erano le cortine, le avevo anche sentite, ma non ne sentivo l'esigenza, mi sembrava che non fosse così strettamente necessario. Ci è voluto un po', ho cominciato a mettere cortina a partire dal 2001-2002 grossomodo e dopodiché non ho più smesso, il mio modo di mettere musica è diventato sempre più tradizionalmente simile a quello di Buenos Aires e oggi credo di essere uno dei più rigidamente osservanti dello stile che è una tanda di tango, una tanda di tango, una tanda di milonga, una tanda di tango, una tanda di tango, una tanda di vals, tutto inframmezzato da cortine. Quali sono i criteri che segui per comporre la tua serata? I criteri sono abbastanza semplici, per me la serata è una specie di, come dire, la vivo come fosse una giornata, nel senso che c'è un inizio che corrisponde più o meno al risveglio ed è un inizio relativamente tranquillo, quindi non con la musica quella più popolare, quella più diffusa, né quella più esageratamente marcata, un risveglio abbastanza tranquillo, anche perché la parte più difficile delle serate è proprio l'inizio, quando bisogna scaldare un po' l'ambiente e fare quello che a Napoli si chiama arrivata temperatura proprio e quindi quella parte lì è una parte un po' più quieta in cui si cerca di tirar dentro la gente, farle cominciare, normalmente la prima tanda addirittura la gente non si muove, la lascia passare così tranquillamente, per cui in genere nelle prime tande passo cose che voglio quasi togliermi dai piedi in qualche modo e così successivamente posso dedicarmi alle cose che mi piacciono di più. Uso in genere di saroli per cominciare, per fare la seconda di queste tande, per chiamare la gente a ballare e poco alla volta la serata sale di tono e cresce e come una giornata si arriva nelle ore centrali della giornata, le ore centrali della giornata sono quelle più vivaci, quelle con la maggiore attività, così la serata è quella che concentra la maggiore attività ed è anche vero dal punto di vista numerico, in genere se una serata comincia alle 10, dalle 11 fino all'1 e l'orario in cui c'è la maggior frequenza di persone e la maggiore intensità di ballo, dopodiché la serata comincia non a declinare ma a in qualche modo diventare un pochettino più a tramontare, come se si andasse verso il tramonto, come se cominciasse a richiudersi un po' in se stessa, si rallenta un po' il ritmo, si tende a privilegiare delle cose meno marcate, meno gridate se si vuole, perché è come se si andasse incontro alla sera e si diventasse più romantici, tutto questo io l'ho fatto senza sapere che in qualche modo, questa è la mia regola oggi, ma io non sapevo che sarebbe diventata tutto sommato una regola che altri musicalizzatori veri, quelli di Buenos Aires, stavano già seguendo, me ne sono accorto andando a rivedere dei filmati girati al Café Pro Cop nel 1997, nel 1998 e ricordando quello che capitava ad esempio dalle due di notte in avanti al Café Pro Cop quando io senza sapere che quello che sarebbe stata la regola da seguire, cominciavo a mettere delle musiche, quelle che allora io chiamavo strazza mutande, quelle più accattivanti, quelle che più intriganti, quelle che si ballavano sostanzialmente in silenzio totale, in cui anche il brusio della sala cessava e si sentiva soltanto la musica, il rumore dei passi che strusciavano sul pavimento del Pro Cop ed era un momento bellissimo. Che bella immagine. Che bella immagine. Quindi un consiglio a tutti i futuri musicalizzador? Il consiglio è sempre solo uno, ascoltare, 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 ascoltare e non accontentarsi mai di, come dire, dei pochi tanghi che si sentono. Io vedo oggi un proliferare di gente che è convinta di avere, siccome ha 50, 100, 200 dischi, è convinta di avere la possibilità di fare il musicalizzador. Secondo me non basta, intanto bisogna conoscere anche quello che c'è dentro ciascuno di questi dischi, non è sufficiente averli questi dischi, bisogna anche sapere quello che c'è dentro. Ma poi bisogna costruire e non accontentarsi di passare i soliti brani, ma anche non accontentarsi di passare o non forzare la mano nel senso opposto di passare quelle cose di cui ci siamo innamorati, ma che poi in Milonga non riscuotano il successo che noi pensavamo che meritassero, semplicemente perché nel corso degli anni non hanno avuto quel successo che noi ci saremmo aspettati. Ma bisognerebbe tutte le volte pensare che se a Buenos Aires quella roba lì non la passano, un motivo ci sarà. Se un brano non è diventato un brano classico, un tango classico da Milonga, un motivo c'è ed è inutile che arrivi tu dell'ultima ora e vieni a farci scoprire l'acqua calda. Voglio dire, io ogni tanto mi stupisco dei successi inaspettati di brani e di musicisti, di brani ne cito uno per tutti, il famosissimo Mercedes, musicisti, cito Fulvio Salamanca, tanto per dire, sono bravissimi musicisti, ma sicuramente ci sarà un motivo se quelle musiche, se quegli artisti non passano normalmente nelle Milonghe di Buenos Aires. E sarà bene che i musicalizzatori di qua si facciano queste domande e cerchino di capire perché quella musica nella patria del tango non passa. Bene. La tua orchestra preferita? In realtà io non ho un'orchestra preferita, ho dei periodi della storia del tango che preferisco e le orchestre di quel periodo mi piacciono perché ogni orchestra ha un suo, ogni orchestra sono diverse orchestre a seconda del periodo della loro vita. Allora mi piace il periodo che va dal 36-37 fino al 47-48, quello per me è il periodo in cui le orchestre hanno dato il meglio di sé, le orchestre che io preferisco. Poi naturalmente tra tutte le orchestre ce ne sono alcune che a me piacciono di più, sicuramente nel corso degli anni una che è cresciuta e oggi ha certamente superato in preferenza, nelle mie preferenze, tutte le altre è l'orchestre di Hannibal Troilo. Hannibal Troilo ci si arriva con molta gradualità e secondo me ci si arriva dopo un percorso veramente molto 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 lungo. L'altro che mi piace ascoltare, quindi musica da ascoltare, è l'orchestra di Osvaldo Pugliese, sicuramente. Le altre che mi piace ascoltare sono più che orchestre da ascolto, sono orchestre da ballo, per cui ci sono due orchestre che mi piacciono più di altre per l'ascolto, che sono Troilo e Pugliese, ma metterei anche Calò in mezzo a queste, e altre due orchestre che mi piacciono principalmente perché fanno ballare e che mi piace ascoltare quando sono in Milonga, che sono da Rienso e di Sarli, quindi più che un'orchestra preferita c'è un periodo delle orchestre che mi piace. Molto bene. Il tuo cantante preferito? E li dubbi non ce ne sono. È Roberto Gogenece, che è stato il cantante che mi ha fatto innamorare del tango, perché io ho cominciato ad appassionarmi al tango ascoltando un disco di Roberto Gogenece, ascoltando un brano che si chiama Vuelvo al Sur, che è un brano meraviglioso, cantato da Roberto Gogenece. Su Roberto Gogenece ho letto libri, ho visto filmati, insomma ho raccolto credo quasi tutti i brani che lui ha inciso, oggi credo di averne 365, di brani di Gogenece, li ho ascoltati tutti e quindi continuo ad essere veramente uno che a me viene la pelle d'oca ascoltando Gogenece, sicuramente. A questo punto un tango preferito e perché? Anche lì, vale il discorso fatto per le orchestre. Il tango preferito non esiste uno, ma esiste una serie di tanghi che sono nati da certe orchestre in certi periodi. Però, tra tutti, devo dire, se devo citarne qualcuno, concentrandomi, sicuramente mi viene in mente Confession, che è uno dei tanghi che più mi ha toccato per il testo e per la musica, per lo trovo un tango quasi straziante, forse il più bel tango d'amore della storia del tango. È un tango di discepolo cantato da Floreal Ruiz nella versione originale, con l'orchestra da Anibal Troilo e io lo trovavo veramente bellissimo e drammatico. Quando vieni in Milonga balli? Vado probabilmente in Milonga per ballare e basta. La maggior parte delle volte vado per mettere musica. Quando vado ballo pochissimo, perché comunque mi piace ballare, ma sicuramente preferisco far ballare più che ballare. Perché ho sempre l'impressione, facendo il musicalizzador, ho sempre l'impressione di fare un po' come il direttore d'orchestra, piuttosto che il suonatore di un singolo strumento. Ho un po' come lo skipper di una barca, piuttosto che non quello che fa la manovra alle vele o cazzo al merricello. Allora preferisco far ballare piuttosto che ballare, ma ballare mi piace, questo è sicuro. Sappiamo che ami cantare sopra la voce di qualche cantante quando vieni in Milonga, no? Sì, sì, mi piace cantare. Sono sicura che piacerà molto questa parte dove tu ci canterai un pezzo adesso, però... Preferirei evitare questo... Un pezzettino, no? Questo amaro calice, ma... Sì, 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 ascolti. Cantare mi piace, questo è in dubbio. Ho sempre in mente della musica e tutte le volte che posso canto. Nel senso che è una delle mie grosse passioni non è soltanto la musica, ma anche il canto. Una delle... naturalmente quando ero giovane avevo un tono di voce che mi consentiva estensioni vocali abbastanza ampie. Adesso devo contenermi perché la tonalità si è molto ristretta. Per cui devo... canto e in genere intervengo dove non devo sforzare troppo la voce. Mi ricordo al Prokop dove si fumava come i turchi e cantavo pure. Andavo via dal Prokop tutti i venerdì sera senza voce completamente e stavo per il sabato e la domenica di afono completamente. Adesso canto ma mi contengo un po' per cui insomma con l'età e con la maturità si impara a fare anche uso un pochettino più parsimonioso e più accurato della propria voce. Il tango che mi viene meglio sicuramente è Adios Buenos Aires perché ha esattamente la tonalità che ho ancora oggi. È un tango che parla di uno che parte da Buenos Aires. Naturalmente e ancora una volta si torna il sentimento prevalente del tango, quello principale che è la nostalgia e quindi non la sensualità. La nostalgia nel tango e dice devo chiedermi de mi tierra tancherida, devo chiedermi sangrando il corazon. E come fa? Voglio la musica però, devo cantare sopra la musica. Questo. Devo alejarmi de mi tierra tancherida, devo alejarmi sangrando il corazon. come il poeta di un poeta di un poeta. Adios Buenos Aires, amigos, adios. Noches porteñas che subirei di mia vita, due testigos oggi di mio dolore. Todo rincone mi trae algún ricordo, tutto, tutto mi parla di suo amor. No se che rumbos tomarà i miei passi. Lejos di questa terra mi lleva al destino. Io tengo in l'alma penas e fracassos che olvidar, quisiera per alcun cammino. E se entra in la bruma speciale di Londres o in l'algarabia infernal di New York, arranca esa pena che è sempre del corte. Adios Buenos Aires, amigos, adios. Bene, bravo. Faccio un applauso ad Alfredo. È il momento per me più importante. Spero che tu possa mostrarmi qualcosa su quello che sono i ricordi, i cimeli che ti sei portato da Buenos Aires, no? Qualcosa di... Sì, qualcosa di... So, prima di farti iniziare, e qui ovviamente mi leggo al fatto che quest'anno la comparsita compie 100 anni, da quando è stata scritta, e so che tu hai qualcosa interessante da farci vedere in merito. Ah, sicuramente. Uno degli spartiti originali della comparsita, che è questo, uno spartito che ho raccolto, che ho comprato da una vecchietta che ho incontrato in Plaza del Rego a Buenos Aires. Emozionante. Questa vecchietta stava cercando di vendere i suoi... Aveva una borsa piena di spartiti e stava cercando di venderli a un commerciante che c'era lì nella piazza e questo non se la filava, la trattava male, non voleva dargli retta. Allora io mi sono avvicinato a questa vecchietta che ho detto, scusa, mi fai vedere, mi sono presentato, ho cercato di capire che cosa fosse. Questa era una musicista che cercava di recuperare qualche soldo vendendo degli spartiti che ormai a lei non servivano più, erano abbastanza parecchio anziani la signora. Allora l'ho invitata a venire nel mio albergo, non avevo dietro i soldi che mi servivano, ho invitata nel mio albergo, glielo ho comprati tutti, erano 150 più o meno, quindi gli ho dato, credo, un dollaro per ciascuno di questi e credo di aver fatto... L'affare. Io ho fatto sicuramente un grande affare e credo che l'abbia fatto anche lei perché recuperare tutti quei soldi in un colpo solo in quegli anni era veramente una cifra notevole. Tra gli spartiti interessanti, oltre a quello sicuramente c'è questo, Amedialus, c'è Recuerdo, l'originale che addirittura riporta ancora come musica quella di Adolfo Pugliese, che era il papà di Osvaldo Pugliese, perché Osvaldo aveva consentito a suo padre di mettere il proprio nome perché suo padre se la stava passando piuttosto male, come avevo raccontato in una delle charle precedenti, e per cui gli aveva permesso di depositare con la sua firma questo tango. Poi successivamente ha messo il suo nome, Inspiration, che è un tango famosissimo, ma ce ne sono insomma 150. Tra gli altri cimeli sicuramente uno di cui vado più orgoglioso è questo, che è il libro del tango di Horacio Ferrer. Questo libro è autografato dal suo autore, che mi ha fatto una dedica, proprio a me personalmente, l'ho comprato nel 1995 e è composto da tre tomi, che pesano complessivamente circa 10 kg, i tomi sono questi qua, e per portarli in Italia da Buenos Aires l'ho portato nel mio bagaglio a mano, per cui io avevo come bagaglio a mano solo quella roba lì e non avevo niente altro. Nel corso di questi anni da Buenos Aires ho portato una sessantina, settantina di libri, ho portato manifesti, ho portato t-shirt, ho portato di tutto e di più, tutto quello che aveva attinenza con il tango sono riuscito a raccogliere. I libri sono più o meno lì, ho portato delle cassette video, dei VHS, ora naturalmente non esistono più, ho provveduto a riversarle e a trasformarle in qualcos'altro, un pochettino più fruibile, ma insomma era una vera e propria mania da collezionista che mi ha portato a mettere insieme un piccolo museo del tango. A casa tua. A casa mia. Bene, a questo punto ti ringrazio tantissimo per avermi dato questa possibilità di farvi un'intervista, legata ovviamente a un percorso che si chiama Siete Palavras, dove Alfredo Petruzzelli racconta in ogni puntata una parte e un periodo, un cantante, un'orchestra, un musicista, suddivisa appunto in sette incontri, parlandoci della storia della musica del tango. Quindi ti ringrazio ancora. Grazie a voi. E a presto.